Bentornati al consueto appuntamento settimanale con 3 Media Risponde. Oggi di nuovo in studio l'avvocato Manuela Mancuso, a cui diamo subito il benvenuto, grazie per essere con noi, che è tornata qui per affrontare quel problema di cui avevamo già parlato, il falso abuso, perché purtroppo le separazioni difficili vengono ormai a moltiplicarsi quasi giorno dopo giorno e gli affidamenti dei figli, situazioni particolari in cui vengono spesso e più volte strumentalizzati i bambini. Parlavamo appunto del concetto di falso abuso, che cos'è in ambito proprio giuridico? Possiamo spiegare il termine? Il termine falso abuso noi chiaramente l'abbiamo mutuato dall'ambito psicologico. In questo contesto, come diceva lei, delle separazioni difficili, purtroppo la incomunicabilità o le difficoltà di comunicazione fra i coniugi fanno sì che a volte, chiaramente parliamo solo di situazioni conflittuali, non voglio che passi un messaggio diverso, l'altro coniugio, il coniugio arrabbiato che si sente debole, a volte possa leggere dei messaggi sbagliati. Col termine falso abuso noi siamo soliti indicare la falsa denuncia di un abuso morale, sessuale, psichico, fisico, che il minore avrebbe subito ad opera dell'altro genitore, che il più delle volte verrà a essere chiaramente identificato nel padre. Ci sono numerosi casi che abbiamo visto, addirittura c'è anche un centro che si occupa online, che raccoglie documentazioni, quindi nonostante sia un fenomeno forse per molti aspetti ancora poco conosciuto, in realtà è abbastanza noto. Ma lei si è occupata di qualche caso del genere in particolare? Chiaramente sì, nel senso che purtroppo occupandomi io di diritto penale prevalentemente e anche conseguenzialmente di diritto della famiglia, perché molti dei reati di rilevanza penale chiaramente sono collegati alla famiglia, mi è capitato. A volte è frutto di un genitore eccessivamente preoccupato, altre volte è frutto di un genitore particolarmente arrabbiato. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, molte volte le donne ci si siedono davanti e dicono avvocato io lo voglio rovinare, lo voglio distruggere. Allora quando ci si trova di fronte a un coniuge così arrabbiato, buona norma impone a noi avvocati di effettuare un primo screening sulla credibilità di quanto ci viene raccontato. Nel caso che mi capito, l'ultimo dei tanti che mi sono capitati, io assistavo il genitore falsamente accusato. Il bambino tornando a casa aveva semplicemente detto alla mamma se potevano fare un gioco che aveva visto in televisione. e l'espressione che aveva detto del bambino era facciamo come nella pubblicità. La madre, una madre comunque particolarmente fragile, una madre particolarmente ansiosa, chiaramente anche l'ansia e la fragilità sono degli elementi che subentrano, aveva immediatamente detto al bambino ma che cos'è, questa non è una pubblicità, è un film e chi te l'ha fatto vedere, dove l'hai visto questo film? Aggiungendo dei dettagli, che ora poi spiegherò perché non devono essere aggiunti, che modificavano il narrato del bambino. I bambini molto piccoli, in generale i bambini, ricordano raccontando, dicono gli psicologi, man mano che gli si aggiungono dei dettagli, il bambino vuoi per compiacimento, vuoi perché comunque chiaramente fa proprio le storie che sente, aggiungerà dei dettagli. Cosa avvenne? La madre preoccupata portò il bambino da una psicologa non esperta in problemi dell'infanzia perché è chiaro che quando si lavora con i bambini, io chiedo e spero che lo facciano tutti, soltanto persone che hanno una competenza specifica nell'ambito dell'infanzia dovrebbero intervenire perché sia le linee guida in campo psicologico che la carta di nota in campo giuridico indicano quali sono i criteri che obbligatoriamente devono essere eseguiti proprio per evitare che il racconto del bambino venga a essere arricchito da dettagli del bambino non riferiti che possono far venire meno la genuinità e la vericità del racconto. La mamma aggiungendo quei dettagli prima, andando da una psicologa non esperta dopo cui fu detto subito mio figlio secondo me ha subito un abuso, aveva già modificato la realtà e questa psicologa disattendendo sia la carta di nota ma anche le linee guida di cui le parlavo poc'anzi quindi non prevedendo la registrazione, non protocollando e non indicando quali erano i criteri che aveva utilizzato ma facendo leva e utilizzando solo dei test di natura soggettiva quindi che a seconda di chi li sottopone può interpretarli in modo diverso addivenne alla conclusione che il bambino era stato abusato l'abuso si sarebbe sostanziato nell'aver sottoposto il bambino in visione dei filmini pornografici. Ma generalmente quando si manifestano queste cose, cioè deve essere correlato a un'istanza di divorzio magari la donna chiede una separazione e quindi scatta anche questa denuncia o sono separate le vicende? Purtroppo oggi assistiamo il più delle volte le denunce di quelli che noi definiamo falsi abusi sono correlati alle separazioni difficili quindi in un contesto in cui si ottiene un poco di mano rispetto a quanto si auspicava subito dopo c'è la denuncia con questa esternazione di grande pados e di grande preoccupazione nei confronti del figlio. È possibile vogli accanto ai falsi abusi esistono i veri abusi e la maggior parte degli abusi sui minori sono abusi intramurali che avvengono all'interno delle murie domestiche. È altrettanto vero che ci sono questi falsi abusi e comunque il bambino sarà sempre un bambino abusato nel senso che è chiaro che se io convinco un bambino, anche se è in buona fede, anche se è con la mia ansia, che ha subito un abuso e quindi li descrivo come negativo uno dei suoi pilastri, chiaramente ho causato un grave disagio in quel bambino. Quindi bisogna fare innanzitutto una distinzione perché ci sono purtroppo tanti abusi che si verificano e ci sono purtroppo anche questi falsi abusi in cui il bambino viene strumentalizzato e quindi ugualmente vittima di un abuso, possiamo dire psicologico, perché poi ne pagherà le conseguenze nel momento in cui si subentra l'ambito giuridico, gli avvocati, le analisi di psicologi quindi sicuramente non è una situazione abbastanza piacevole per il bambino ma come possiamo quindi riconoscere nel momento in cui viene fatta questa perizia, questo esame come possiamo riconoscere se realmente il bambino ha subito un abuso oppure no? Allora intanto dobbiamo dire che in astratto non esistono degli indicatori assolutamente atti a dire che il bambino ha subito un abuso sessuale o psicologico perché all'interno di una crisi familiare, dicono gli psicologi, ci insegnano gli psicologi comunque il bambino che vive in una situazione di stress manifesterà alcune esternazioni tipiche perché comunque è un bambino che è in una situazione conflittuale, che possono essere lo stress piuttosto che la pipì, piuttosto che non alimentarsi è chiaro che intanto per poter capire se un bambino è abusato o meno si deve fare riferimento e ci si deve avvalere, come dicevo prima, di esperti psicologi i quali chiaramente si devono occupare di diritto di minori in età infantile Se le prime affermazioni probabilmente sono quelle più veritiere? Sì e aggiungiamo pure un'altra cosa, il bambino abusato raramente riconoscerà l'abuso non lo sa che è un abuso, un bambino piccolo non sa quello che è giusto e che è sbagliato siamo noi adulti a dire quello che è giusto e quello che è sbagliato secondo alcune statistiche il bambino abusato tende a chiudersi molto non riesce a raccontare con facilità l'episodio tende a giustificare l'abusatore perché il bambino si colpevolizza di quello che ha subito ma ripeto, questi sono degli indicatori, dei criteri che chiaramente vengono rimessi la cui individuazione viene rimessa allo psicologo il giudice nell'ipotesi chiaramente di procedimento penale in sede di incidente probatorio nominerà un perito cui viene attribuito il compito di valutare la genuinità del fatto raccontato non l'attendibilità di quello che dice il bambino perché sull'attendibilità sempre il giudice dovrà valutare il perito in questo caso avrà il compito di sottoporre al minore dei test chiaramente anche i difensori sia del minore che della madre che del padre io parlo di difensore del minore perché ultimamente si sta assistendo sempre di più alla possibilità di un suo difensore pensi che se il bambino risultasse abusato da entrambi i genitori ha il diritto a una figura particolare che è il curatore del minore quindi un terzo che chiaramente porterà avanti e tutelerà l'interesse esclusivo del bambino in questi casi anche noi abbiamo dei nostri esperti che assistono da dietro dai vetri o normalmente siamo in delle stanze schermate perché c'è la telecamera che deve riprendere tutto per vedere come vengono somministrati i test al bambino fra questi test chiaramente ci sono anche dei test per valutare la maturità psichica del bambino è difficile operare con bambini molto piccoli un bambino di tre anni chiaramente richiede un intervento, delle domande o dei giochi anche perché a livello di linguaggio probabilmente ancora poco si potrà esprimere sicuramente ma ci sono anche dei segnali che si possono percepire un bambino abusato normalmente diventa un bambino molto più cupo un bambino appunto, le parlo prima del fenomeno della diuresi notturna ma ripeto, quello anche è un bambino che si trova all'interno di una situazione conflittuale secondo alcuni studiosi se il bambino racconta troppe volte aggiungendo troppi dettagli è altamente probabile che abbia subito una contaminazione e che non sia vittima di abuso però chiaramente non si può generalizzare tornando al caso di cui le parlavo prima le posso dire che l'esperto nominato dal tribunale che era un ottimo esperto con grandi competenze nel corso dei vari esami che furono somministrati al bambino riuscì a ottenere dal bambino una ritrattazione del fatto il bambino disse semplicemente che si era inventato tutto perché voleva ottenere delle attenzioni purtroppo a volte anche i bambini chiaramente strumentalizzano le situazioni di conflitto il bambino sapeva che dando ragione alla madre avrebbe ottenuto chiaramente più giochi, più attenzioni e essendo arrabbiato col padre che in quel momento per ragioni di lavoro e per ragioni di conflittualità con la madre era più assente ha chiaramente dato ragione alla madre il bambino comunque vuole compiacere e anche quando viene interrogato quindi con le varie domande si può far condizionare quindi da quelle che sono le domande, cioè risponde così per come gli viene richiesto chiaramente sì, le faccio un esempio bene, prima le dicevo sono secondo la carta di noto non devono essere fatte domande suggestive o che aggiungono ricordi se si suppone che il bambino ha subito un abuso non si dovrà mai chiedere al bambino che cosa ti ha fatto papà, che cosa ti ha fatto il nonno o il nonno è bravo o il nonno è cattivo soprattutto perché qua si esprime un giudizio allora la domanda deve essere il più possibile asettica per consentire al bambino la ricostruzione con i tempi del bambino di quanto ha vissuto ma in attesa delle varie perizie, quindi dei vari accertamenti possiamo così dire come viene tutelato il bambino? Cioè nel caso in cui i genitori siano separati e vive con uno dei due, in che modo viene tutelato? Il tribunale in questi casi dove c'è la denuncia penale se esistono degli elementi molto evidenti può e normalmente provvederà a ridurre i diritti di visita o a prevedere quello che viene definito l'incontro assistito cioè gli incontri fra il presunto abusante e il minore al cospetto degli assistenti sociali e questo proprio perché c'è questa forma ampia di volontà di proteggere il bambino che è comunque chiaramente un soggetto molto debole e sicuramente nell'ipotesi del falso abuso questo è altamente gravoso perché un genitore si vede limitare il suo diritto e un bambino si vede limitare i suoi diritti di figlio perché comunque si crea una situazione anomala noi non abbiamo ad esempio a Messina dei centri di accoglienza pubblici che sono predisposti a questa tipologia di incontri al contempo gli assistenti sociali nominati chiaramente sono investiti nell'onere di fare delle relazioni durante appunto il setting che è la visita, il controllo in cui relazionano i giudici quale è realmente l'atteggiamento che il bambino ha nei confronti del genitore chiaramente un bambino che ha subito un abuso una forma di paura, di ritrosia la manifesterà nei confronti dell'abusante se il bambino invece è allegro e gioviale e non ha delle forme di seduttività perché anche l'esternazione di seduttività è un indicatore di un abuso o di un'anomalia nella conoscenza o nell'approfondimento della sfera sessuale in questo caso chiaramente gli assistenti sociali evidenzieranno questo nel caso ovviamente in cui si tratti di un abuso il genitore sicuramente verrà condannato e quindi si procederà per vie diverse ma qualora si riveli un falso abuso? in entrambi i casi si aprono dei procedimenti penali nel senso che se c'è l'abuso sul minore si aprirà un procedimento penale per violenza con tutte le conseguenze andeste quindi un'iniziale limitazione dei diritti di visita della patria potestà fino nell'ipotesi appunto di sentenza definitiva addirittura la possibilità della perdita della potestà genitoriale nell'ipotesi in cui invece si dovesse scoprire che si è trattato di un falso abuso chi ha falsamente denunciato risponde di un reato che è la calunnia chiaramente perché se io denuncio un fatto mai avvenuto sapendo una persona innosente è chiaro che l'ordinamento interviene a tutelare sia l'autorità giudiziaria che si è messa in moto inutilmente sia la persona falsamente accusata e in questi casi chiaramente il genitore falsamente accusato potrebbe anche e sarebbe ospicabile che chiedesse l'affidamento in questo caso esclusivo del minore proprio perché è logico supporre che se tu arrivi a strumentalizzare tuo figlio tu sei un dominante, sei un abusante sei una persona che può chiaramente condizionare il percorso di crescita psicofisico di un bambino le immagini se ogni giorno un padre dice a un bambino la mamma è cattiva, la mamma è brutta, la mamma è qua, la mamma ti fa queste cose le posso assicurare che il bambino ci crederà Bene, anche per oggi è tutto ringrazio l'avvocato Manuela Mancuso per essere stata con noi e vi ricordo ancora una volta l'indirizzo email renatasanni chiocciolatremedia.it al quale potete rivolgervi per le vostre segnalazioni